Maria De Filippi, amatissima conduttrice, ha spesso ricordato l'importanza di Maurizio Costanzo nella sua vita e carriera. Devo tutto a Maurizio, senza di lui non sarei qui. Mi manca, ha dichiarato in un'intervista al settimanale, oggi. La sua perdita ha lasciato un vuoto che oggi cerca di colmare con l'amore per il figlio Gabriele, che lavora con lei a Witty TV. Lui è la mia gioia, il mio sguardo al futuro, ha detto Maria, aggiungendo che la maternità è un'esperienza meravigliosa ma complessa, specie nel vedere il proprio figlio diventare uomo. De Filippi domina la scena televisiva con programmi di successo come, Uomini e Donne, E, c'è posta per te, ma ammette che la pressione a volte è tanta, vorrei prendere la vita con più leggerezza, non avere impegni. Tra i dettagli più curiosi rivelati, c'è il sogno d'infanzia di fare la benzinaia. Ero attratta dall'odore del petrolio. Poi la vita mi ha portato in una direzione inaspettata, ha raccontato sorridendo. Oggi, Maria continua a essere una figura centrale del panorama televisivo italiano.